Questa mattina siamo in un posto diciamo particolare, siamo all'interno della nostra mensa comunale e abbiamo aperto questi spazi alla visita dei genitori, dei nostri alunni che frequentano la mensa comunale. Giornata di porti aperti, acquarrata dunque alle cucine comunali, è accaduto per la prima volta nei giorni scorsi con il centro di produzione pasti per le mensze scolastiche che è stato visitabile da genitori e cittadini. Un'occasione ha spiegato l'amministrazione per parlare con chi si occupa della preparazione degli alimenti. Abbiamo le mele della Valdinon DOP, abbiamo le pere IGP Emilia Romagna e poi abbiamo anche le patate di Fuscino che sono patate sempre IGP. Oltre a questi prodotti che sono stati inseriti in questa gara d'appalto per poter diciamo avere dei prodotti migliori abbiamo anche tutti i prodotti biologici dalla frutta alla verdura, la verdura surgelata che comunque sono integrati agli altri prodotti utilizzati. Penso che la mensa di quarrata sia veramente un'eccellenza perché io personalmente vado a mangiare molto spesso nelle scuole e vedo proprio con piacere che questi bambini gradiscono questo cibo, come viene cucinato, come viene presentato e quindi penso che sia veramente un'ottima cosa. Questo diciamo per fare un'operazione trasparenza. Un'operazione trasparenza cioè abbiamo voluto far vedere a coloro che erano interessati questi spazi e fargli assaggiare questi prodotti che sono cucinati giornalmente.